Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo. Martedì sarà una giornata all'insegna dell'alternanza tra sole e nuvole, un po' su tutte le nostre regioni, mentre avremo a che fare con locali rovesci di pioggia, che come vedete andranno ad interessare soprattutto il sud, il versante tirrenico, la Liguria occidentale e il nord-est della Sardegna. Non si esclude qualche rovescio di pioggia, anche sull'Emilia orientale. Mercoledì sarà un'altra giornata molto simile, con un po' di instabilità atmosferica localizzata e poi tra giovedì e venerdì, come vedete, l'alta pressione tornerà ad abbracciare gran parte delle nostre regioni settentrionali, mantenendo il tempo in prevalenza stabile e soleggiato, mentre gradualmente la perturbazione numero 3 di questo mese scivolerà verso il sud Italia, provocando instabilità atmosferica soprattutto sulle regioni meridionali e sulle due isole maggiori. Io intanto vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli potete consultare la nostra app meteo.it